Win on loss che faccio all in, ecco qui Abbiamo già trovato la ranked ragazzi L'abbiamo già trovata Yo guys Chill bro La vuoi vedere una cosa nuova, fammi vedere Marco Ha detto whatsapp, no 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 Ah io non ne so niente ragazzi Non è mia responsabilità ciò che dicono i compagni di squadra Allora bandiamo mira Ban mira guys Mira guys is better ban, trust me Why alibi Yo Ok allora devo prendere tachanka no Eh prendiamo sto tachanka Però non lo voglio usare con questo bombolone Io voglio usare questa Sorry I don't have Secondo voi è meglio la primaria o la secondaria del tachanka? Cioè è meglio il mitraglione se movibile O quello lì O questa SMG qua Io mi trovo meglio con questo coso Oggi mi sento molto roccioso ragazzi E voi direte sentirsi rocciosi è un bene Invece no perchè mi sento rigido Mi sento poco smolleggiato Poco elastico Did you know Rashi? They are breaching fridge Chill bro chill Cosa sta dicendo questo compagno di squadra? No accanto No accanto No accanto No accanto No accanto No accanto I'm distrugged S Kademi forte sto lanciando granate Ricarico Ricarico Defuser on me Bro I need help Un operatore alleato rimasto L'ultimo nemico rimasto Qua Quindici secondi Chi knows where you are Dieci secondi e via Sorry guys Cazzo come l'avevo ucciso Quello lì che stava nella rotation Non so neanche io Sorry guys Porca puttana come l'avevo ucciso Alcatro Bro il tuo microfono è molto male Il mio microfono o Non il tuo Bro posso lasciarmi il clash No Ok il mio amico sono triste Ok Puoi cercare il f***o per due secondi Sorry bro Questo è incazzatissimo ragazzi Questo compagno di squadra L'ha incazzato con la vita Non gli si può dire niente Non puoi parlare Non mi puoi credere clash Non puoi nulla Cioè Vai 3-1 Cerchi di clashare il round E vieni pure insultato Non accettiamo queste discriminazioni ragazzi Ma cosa stanno facendo? Very good Very good Sì mio amico Io lo faccio sempre per te Aspettate Clash Vai 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 Un'altra Questo è troppo aggressivo ragazzi Io voglio essere simpatico Gentile Ma il mio compagno è troppo aggressivo Nei nostri confronti Multiply enemies outside Bro what the f*** are you doing? Silence please A second They are breaching Village upstairs Train train No bro you can play tachanka no problem mate No No I want to Thanks bro Thanks bro I have some vodka for you now What I can pick guys Doc is good Lesion is good Darun is good What I can pick Calf Calf No don't take Calf bro Don't take Calf Why you can't take Calf Calf Because he's a s*** operator No don't take Calf No don't take Calf 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 eh sono di rufo, sono di rufo WTF ma che cazzo sta succedendo ragazzi ciao 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 Sì Sì Sto sudando ragazzi They have mozy, watch out guys Sto sentendo Mario Mi sto sentendo Sto sentendo male ragazzi Please bro, brock the hatch Sto si Da il red stairs Io penso Ssh RICARDO Di red stairs Ma da dove è arrivato questo? Focuse Si deve subito entrare in modalità try yarding non voglio perdere questa partita importantissima per la mia carriera Mi stanno prendendo Mi stanno prendendo un giro Smoak death Nooo Watch out to my friend Jäger Jäger from here Almost plant Very good Very good Let's go to win If we win I give you 5 billion Turkish money For everyone here Very good my friend I will become rich The donator is Bill Gates So he is legend Don't worry Wow finally we can become rich I will become rich Cosa sta dicendo questo Pazzo Bro my friend what are you doing Why did you destroy my drone my friend They are not in kitchen They are not in kitchen You have a chicken Another tiny chicken you have Peter Dom stick in your brain I have a Vichy Bro where are you destroying the drone My friend Ma perché mi ha ucciso? Ma che cosa ho fatto di male? Ma perché mi ha ucciso? Sì, sto pure facendo 6 in 3 Ma perché stanno trollando? Potevamo vincere Vabbè 3v3 si può ancora vincere ragazzi Possono ancora vincere Let's go guys win Bibliotech, bibliotech Ma perché stanno trollando così? Ma puoi essere più stupido Very good, very good guys win Finalmente puoi essere rich guys Let's go Si go, abbiamo pure vinto Nonostante mi abbiano ucciso Non so perché mi hanno ammazzato Ma sono dei compagni completamente pazzi Vediamo quanti punti prendono Ma quanto è spazzato ha sparato Stare anche Eh, avete fatto variare Comunque, complimenti Ma il plot twist finale Ma sono italiani Ciao io, ciao Ma questo è il plot twist finale Ma erano napoletani pure Cioè erano italiani di Napoli Cioè era un troll nel troll ragazzi No, non ci posso credere